Ho 16 anni, ma è già da più di 10 che vivo in un carcere. Un argomento forte che tocca le coscienze e che fa discutere. Daniele Silvestri sul palco di Sanremo presenta agli italiani Argento Vivo, la storia complessa di un'adolescenza difficile come sono le esistenze di tanti teenager. Sicuramente traccia un presente possibile che è molto buio, molto scuro, ma lo fa perché credo che non ha senso sempre cercare il lieto fine o mettere in una luce dove c'è un tunnel buio. Ogni tanto bisogna affrontare quel buio e questo ho fatto con questa canzone. Quindi ho mostrato una possibilità, molto concreta però, perché l'ho fatto perché l'ho trovata, l'ho trovata nei miei stessi figli, l'ho vista accanto a loro e ne sento parlare. So che quel buio, quel vuoto cosmico, quella voglia di spegnere il proprio Argento Vivo, non solo che venga spento all'esterno, ma di lasciarlo spento, è molto concreto. Però io sono ottimista nella vita personale e in generale pensando al mondo. Un testo duro e impegnato, cantato insieme al rapper Rancore. Che bravo e adesso posso dire anche che è una persona splendida, quindi ne sono ancora più contento e scrive davvero più. Argento Vivo è uno dei testi più intensi di Sanremo 2019 e per questo viene dato tra i favoriti, ma lui, scaramantico, dice così. Sì, ma non c'è pericolo. Credo che sia una canzone anomala per il festival, quindi chissà quale spazio si ricaverà, non lo so. Non è snobismo se dico che non sono particolarmente interessato alla classifica, non mi sono mai sentito uno in grado di arrivare in cima a quella classifica e non è il motivo per cui ci vengo, quindi lo lascio volentieri a chi magari se lo merita da un punto di vista mediatico, di potenza vocale, di personaggio più giusto. Io spero che questa canzone però scavi un piccolo solco e si trovi uno spazio e questo è un trampolino perfetto. Che sia più facile scrivere che cercare il contatto Io che ero reggento vivo signore, io così agitato, così sbagliato Da continuare a pagare in modo esemplare qualcosa che non ricordo di avere mai fatto Ho sedici anni, ho sedici anni e vivo in un carcere Se c'è un reato commesso là fuori è stato quello di nascere